Sono un ausilio che non si stanca, che non può prendere infezioni, che non va in malattia. Sappiamo che molto il personale medico, il personale infermieristico è stato colpito in maniera dura da questa infezione e il fatto che Robo non possa essere affetto da Covid è una grande conquista. Grazie. 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 Grazie.